Messaggio velato a Kerem Bursin, sono pronta per donare. La diva turca, protagonista di un servizio sulla rivista Hello, ecco che cosa ha raccontato. Infatti durante un servizio sulla rivista Hello si è aperta e ha detto, siamo fuggiti da Istanbul con Handel e Arsel che apprezza ogni momento del suo viaggio della vita e dice che diventa sempre più forte, accettando se stessa e gli alti e i bassi che affronta lungo tutto il suo percorso. In mezzo alla nottura dove l'autunno inizia a palesarsi abbiamo ammirato ancora una volta l'unicità di questa bellissima donna. Ma prima di entrare nel vivo di questo argomento ti ringraziamo per aver scelto di vedere questo video e ti ricordiamo di iscriverti a questo canale ma di attivare anche tutte le notifiche tramite la campanellina mettendo un like ed un commento sotto a questo video. Inizia così il servizio che la rivista Hello ha dedicato da Handel e Arsel. La bellissima attrice turca è diventata anche la regina di Instagram dove ha un seguito di quasi 30 milioni di follower. Nelle foto del servizio lei ha indossato dei capi della collezione Nocturne di cui ho ormai il volto e il testimonial da diversi anni. Il dono più grande della mia vita sono le esperienze che mi hanno reso la donna che sono oggi dice Handel nella lunga intervista concessa a Delo. Quando ripenso al mio viaggio esistenziale anche se a volte mi rattrista farlo sono piena di felicità perché ho imparato ad amarmi e ad essere orgogliosa di me stessa. L'ex protagonista di Love is in Air si apre e si lascia andare ad alcuni pensieri sui social e che rapporto ha con questi mezzi. All'inizio della mia carriera li ho usati tanto e mi piacevano anche. Purtroppo non posso dire la stessa cosa adesso perché si sono trasformati in una piattaforma di odio. Nessuno ha più rispetto per la vita privata delle persone ecco perché di recente ho cercato di limitarmi nel loro uso. E si lascia anche andare ad alcuni commenti sugli hater che ormai fanno parte dei social e senza filtri espone il suo pensiero. Sono soggetta continuamente a critiche sia per la mia professione che per il mio aspetto fisico. Quello che mi dà fastidio è che viviamo in una società che non ha imparato ad accettare le persone così come sono. L'attrice turca parla anche delle sue fragilità. Di solito sono una roccia e raramente perdo la pazienza ma quando ti tieni tutto dentro prima o poi finisci per esplodere. Sono una persona fragile e prima cercavo di nasconderlo mentre adesso non lo faccio. Prosegue poi con una frase che potrebbe essere un messaggio diretto a Kerem. Se qualcuno si è comportato male con me e decide di ammettere i propri errori posso perdonarlo molto velocemente. Di fronte a una domanda diretta del servizio sulla sua futura possibilità di avere figli risponde in maniera sincera e dice sinceramente essere zia è un sentimento così unico e non riesco proprio a pensare alla maternità in questo momento. Come ho potuto appurare dall'esperienza di mia sorella Gamzee la cosa più difficile di diventare genitori è proprio anteporre il bene dei figli davanti al tuo. Io ho provato a farlo quando abbiamo scoperto della malattia di Mavi. È stata la prima volta che mi sono preso una pausa dalla carriera. E stiamo ora a vedere se chi deve saper interpretare il messaggio si muoverà di conseguenza. Per saperlo continua a seguirmi sul canale lasciando un like ed iscrivendoti cliccando la campanellina. Al prossimo video!